Regalo grande è così, chiaramente Pescara non c'entra nulla, ha solo preso atto della decisione della giustizia sportiva, ma ora Pescara deve dimostrare di valere una semifinale, Capitanelli. Sì, siamo stati molto fortunati ad essere ripescati, diciamo ripescati così, dai, in semifinale play-off dopo i problemi sportivi che ha avuto Reggio Calabria e quindi l'esclusione dalla sua semifinale. Prendiamo atto di questa fortuna e adesso tocca a noi dimostrare sul campo che ci siamo meritati questa semifinale con il fattore campo a favore che è importantissimo e quindi davanti al nostro pubblico dobbiamo dare il 200% per portare a casa la serie e tentare di arrivare in finale. Domenica gara 1, martedì gara 2, come hai detto tu con il fattore campo qui al Pala Elettra, mi aiuti un po' a conoscere, o meglio ci aiuti un po' a conoscere Nardò, avete già affrontato due volte in campionato. Sì, Nardò è una squadra molto atletica perché ha degli esterni molto rapidi come Zampolli e Bonfiglio che sono due playmaker navigati e che comunque conoscono bene la categoria e sono molto pericolosi dal perimetro, ma tutta la squadra dal perimetro è molto pericolosa. Dobbiamo affrontarli come abbiamo fatto all'andata? migliorando ovviamente determinate scelte difensive e offensive, ma con questo stiamo lavorando molto bene insieme a Stefano proprio per preparare la partita al meglio. Di conseguenza dobbiamo solamente affrontarli a viso aperto, rispetto per Nardò ma nessuna paura. L'ultima dove dovete essere bravi bravi, secondo te Domenica. Ad esempio ti faccio una considerazione, Drico è un giocatore che ora sta facendo molto bene, apre il campo, sta facendo canestro, a Caserta lo ha dimostrato. Tu lo conosci molto bene, si limita come? Drico sì, lo conosco bene anche perché ha giocato con noi lo scorso anno e sappiamo tutti le sue doti balistiche quali sono. Di conseguenza dobbiamo, ripeto, essere bravissimi in difesa nelle scelte difensive, che possa essere un cambio o un aiuto. cercando di limitare il più possibile sia Drico ma, ripeto, tutti gli altri esterni perché tutti hanno un'ottima mano dall'arco. Perciò, ecco, ripeto, dobbiamo solamente stare concentrati sulle nostre cose perché se ci mettiamo bene in difesa e giochiamo di squadra abbiamo dimostrato molte volte che non ce n'è per nessuno.